ok facciamo un piccolo video siamo entrati adesso dentro al bunker qua di Clavier quello che ci saliva facendo una ferrata ferrata del bunker infatti questo è uno stanzetto dove sicuramente qualcuno ci ha urinato o urinato come si dice in italiano di qua bello gira Paolo di qua c'è un'altra stranza che conduce in là la faremo dopo adesso andiamo avanti qua si sprofonda si ricordiamoci che questi bunker sicuramente sono rivestiti da mianto quindi se vogliamo un tumorino che non abbiamo ancora preso giù dall'ilba lo possiamo anche prendere qua gratis se vogliamo apprezzare fino in fondo il bunker bisogna raschiare una parete leccarle esatto quelle scalette li portano proprio alla miniera di amianto e dove i tumori camminano proprio con le sue proprie gambe adesso vediamo quello che porta questa scala qua muffe muffe che sono sicuramente sono muffe di amianto o è sale di amianto comunque in ogni caso con le scalette le vedo no lo sapete cos'è non è muffa questo è calcio questo è calcio questo è il calcio della montagna questo è calcio e infatti ci va bene oggi perché la serie A inizia la settimana prossima ora occhi e piedi non mettiamo i piedi certo che si può andare dove c'è il buco tu dici che si può andare certo che si può andare Giorgia noi siamo misteri della terra.it possiamo andare a tre parti abbiamo il permesso speciale come dice il nostro collega Giacobbo questo documentario il mio telecamera no cameraman è sicuro che i gradini siano un po' pericolanti no i gradini sono fatti così l'ha fatti così riduce li ha fatti coi duchi perché costavano meno per scoraggiare attenzione questo qua è il tratto esposto vengono anche a farsi come vedi stagnolate stagnolate i fattoni di gravier non hanno altro luogo non hanno paura comunque è un po' pericolante però diciamo che finchè non troviamo cadaveri noi continuiamo la nostra salita diciamo che allora qua è bello che è frenato tutto qua è bello che è frenato tutto ci sarà un'uscita vieni Paolo andiamo su vieni da dove siamo enterati c'è scritto Raxi si ma non si usciva di qua aspetta che adesso c'è un cadavere andiamo a prenderlo vieni seguitemi tutti c'è la testa di Ozzy no Ozzy mio cane ma Ozzy la mumia eh zì eh zì voi lo chiamate Ozzy alla Giovese allora niente siamo arrivati alla fine voglio giusto vedere cos'è sta roba niente niente qua è così va bene questa era un'uscita non ha nominata no vi sono caduti gli occhiali ragazzi attenzione gli occhiali che rotolano verso valle Giorgia saluta i tuoi occhiali ciao occhiali ciao Giorgia mi hai fatto bene a tenere gli occhiali perché qua venivano bene con la luce che c'è ce l'avevo qui con questo al momento vi salutiamo misterideaterra.it ci vediamo alla prossima puntata arrivederci grazie